Il progetto Scintilla è un nuovo progetto della rifondazione Amici Bambini e Scintilla rappresenta una costellazione dove ogni stella rappresenta un centro infanzia che possa essere un asilo nido, possa essere una scuola dell'infanzia che siano altamente accoglienti e inclusivi per tutte quelle famiglie, quei bambini della fascia 06 che riversano in condizioni di fragilità economica e sociale. Io avevo perso il mio ruolo genitoriale, nel senso che mio figlio aveva preso il sopravvento su di me. Ragazzi di Mamma Happy mi hanno consigliato di comportarmi in un determinato modo e di riprendermi il mio ruolo genitoriale, quindi di avere delle fermezze. Quando è no, è no. Io prima gliele davo tutte vinte. Il nostro lavoro serve soprattutto per poter dare alla famiglia anche una prospettiva diversa. Portiamo i genitori a ragionare su quelli che sono gli aspetti che noi osserviamo e devo dire che nella maggior parte dei casi le mamme si sono rimesse in discussione, che si sono in qualche modo ricostruite nella loro relazione con i bambini.